Buongiorno a tutti e buona domenica. Anche questa settimana abbiamo il nostro sondaggio, ovvero sia se segui i contenuti del mio canale perché non sei iscritto al mio canale, vediamo il risultato di questa settimana. Il 13% di voi ha risposto iscrivermi al canale youtube è espressamente vietato dalla mia religione. Il 17% di voi ha risposto mio cugino hacker me l'ha sconsigliato. Il 25% di voi ha risposto il mio medico curante me l'ha vietato insieme a droghe e alcol. E questa settimana vince a mani basse col 45%, mia mamma non vuole. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo sondaggio.